martin martin born benvenuti a questa nuova ricetta oggi faremo una cosa che a me mi fa impazzire cioè quando sono andato a londra mi sono scappotto a me mi non si dice quando sono andato a londra mi sono accappottato a colazione mangiavo sempre questi erano piccoli così che ne voglio fare prossimo si gli ash brown sarebbero quelle sorte di patate grattate fritte mischiare la cosa figa veramente buono ragazzi un procedimento semplice veloce e vi fare una colazione o un brush veramente devastante andiamo a vedere come si fa ragazzi troviamo e prendiamo un attimo le nostre patate volo a volo poi ragazzi vedere grattugia ci grattiamo le nostre patate patate che non mostra il bicipito guarda la guarda ragazzi poi queste patate le mettiamo in acqua fredda per far scaricare l'amico vedete come è diventata una torbida l'acqua aneghina eccetto abbiamo pure grattate dopo mezz'ora direttamente dall'acqua e amido ci diamo un'altra lavatina così giusto per punirla ancora di più far scaricare altro abito e poi andiamo in padella ok ragazzi in padella olio abbastanza abbondante buco medio ragazzi mettiamo le nostre patate ecco qua ragazzi una volta che è morbida la toccata potete staccare potete staccare allora mettiamo amido di mais combo paprika e pepe e per finire un po' di sale ragazzi mischiamo il tutto ok adesso faremo i nostri hash brown molto semplicemente vedete si fa quanto li volete grandi tanto li fate noi li vogliamo giganti li vogliamo abbastanza proprio come una cotolettuna ecco eccolo qua il nostro primo hash brown eccoci qua ragazzi dei bei patatoni giganti e concludiamo ragazzi ci facciamo i nostri quattro bei hash brown adesso rimettiamo in freezer per ben due ore vedete ragazzi uscite dal freezer si presentano proprio come delle tavolette ora li andiamo a friggere come stanno ragazzi olio non esageratamente alto eccoci qua che spettacolo ragazzi sentite la croccantezza e dici sì vittor ragazzi porca vacca mamma 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 è dello stesso colore della tua barba una delle cose più buone che ho fatto in vita mia ok tocca a me no mamma mia anche il paradiso io ho già andato e non darò di nuovo ragazzi è che ha troppo buone una po' più su una testa cinci c'è un po' effettivo ma che concetto oh mamma mia mamma mia mamma mia ma gli piatti oh ancora un po' legno mi sto migliando ragazzi condividete il video se vi è piaciuto mettete like commentate attivate la campanella e soprattutto rigate mangiate e bruciatele un po' fino e fate granci anche voi Ciao Ciao Ciao